C'è il dolce perché c'è un ragazzo giovane, ma già con un'esperienza insomma con i fiocchi, un pasticcere, ma pasticcere un po' riduttivo, adesso ci racconterà lui un po' la sua storia, si chiama comunque Ezio Redolfi, lui è pescarese. Sono un insegnante per Maison Madeleine, una scuola di cucina di Bologna, dove tengo dei corsi soprattutto sono 250 grammi di mascarpone, a cui aggiungeremo 150 grammi di zucchero a velo. È già pesato, è già tutto pesato, da un lato e poi la vado a scavare, a fargli un buco sotto, non vado a tagliarla come se fosse un classico, semplicemente riempirlo con una spatola, e non serve neanche un sac à poche. Per renderla, diciamo che la pina è stata un po' il mio portafortuna sempre, quindi per questo ho deciso di portarla qui oggi. Sei un po' superstizioso anche.